Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per domenica 6 maggio. Il vortice di bassa pressione è giunto mercoledì sulle regioni meridionali e seguiterà ancora a interessare marginalmente però all'Italia perché sposterà il suo centro sulla Grecia e quindi seguiterà a spalmare un po' d'aria fresca sulle regioni, soprattutto centro-meridionali, sulle regioni di nord-ovest. Infatti sono previsti rovesci temporali per lo più pomerigliani sulle regioni di nord-ovest e su tutte le regioni centro-meridionali. Rovesci temporali quindi un po' meno diffusi e meno intensi, senz'altro rispetto alle giornate precedenti. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno al di sopra della meglia di appena di 2 o 3 gradi al centro-nord e invece inferiore alla meglia sulla regione meridionali sulle isole maggiori. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.